Avevo pensato di proporre questa inquadratura sull'iniziazione cristiana utilizzando come icona quella della samaritana, ma poi ho visto il testo e non mi permetto di dire altro perché è fatto molto bene. Ho ripiegato per così dire sui discepoli di Emmaus, ma è un ripiego credo abbastanza degno, Don Luciano ci aveva fatto una tesi, quindi penso che meriti di essere approfondito. La prospettiva però dalla quale parto prima di entrare in una qualche riflessione a partire dalle scritture è quella dell'ascolto dello spirito che è il protagonista dell'evangelizzazione, della catechesi, dell'iniziazione cristiana. Come ci ha ricordato con forza Giovanni Paolo II nella Redentoris Missio, perché questo ci dà subito l'opportunità di collocarci. Noi, cioè, chi siamo noi evangelizzatori? Se non siamo noi i protagonisti, non siamo però nemmeno dei semplici strumenti inerti come la penna in mano allo scrittore o il flauto in bocca al musicista. Il Signore non ci vuole rendere dei semplici ripetitori, quasi dei burattini, ci vuole vivi e coinvolti, non come protagonisti, ma come collaboratori. Questa è la parola che usa costantemente San Paolo, lui che si intendeva di evangelizzazione. Si unergoi, collaboratori, e lo dice in tre direzioni. La prima è molto ardita, collaboratori di Dio, prima Corinti 3,9. Ha appena parlato del suo servizio, di quello di Apollo verso i Corinti, dicendo io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. E con questo suggerisce che ovviamente il compito degli Apostoli è a un livello più basso di quello del Signore. Paolo ha dato il primo annuncio, ho piantato, Apollo ha rafforzato con la predicazione, ha irrigato, ma il miracolo di far crescere, il segreto della fecondità, è riservato a Dio. Con questa parola forte, sui nergoi, letteralmente sono coloro che lavorano insieme, i colleghi, ma dire collega sarebbe poco, perché potrebbero esistere anche persone che fanno lo stesso lavoro, magari nello stesso luogo, ma non proprio collaboratori, magari due impiegati arrabbiati tra loro che occupano lo stesso ufficio. Non penso alla curia, penso al comune. I sinergòi, invece, sono quelli che mettono insieme le forze per un medesimo scopo, buono o cattivo. C'è una complicità, infatti nel greco classico significa anche il complice, ma Paolo lo usa per il nostro rapporto con Dio. Noi siamo i collaboratori di Dio nell'annuncio. E questo è il primo uso. Il secondo è orizzontale. La parola stessa indica che Paolo pensa ad una comunità che annuncia, anche fisicamente sparsa, i famosi collaboratori di Paolo, un'equip, Priscilla e Aquila, Timoteo, Marco, Aristarco, Dema e Luca, sono chiamati esplicitamente miei collaboratori da Paolo. In realtà non nomina solo questi, nelle sue lettere ci sono almeno una quarantina di collaboratori, alcuni dei quali non resistono ai suoi ritmi e al suo carattere, si è detto tra noi, fuggono. Qualcuno ogni tanto scappa da Paolo. Però Paolo non annuncia da solo, ma sempre in equip. E anche quando è fisicamente solo, parlando del suo ministero apostolico, usa sempre il noi, per far capire che si sente dentro a una squadra. Mi pare che ogni volta che Paolo parla di sé come discepolo, come cristiano, parli in prima persona singolare. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, è apparso a me. Ma quando parla di sé come apostolo, scatta il plurale. Noi voi, questa dinamica nella quale Paolo si sente inserito, non riesce a immaginarsi come un eroe solitario, un libero battitore. Anche quando va da solo, c'è sempre la comunità apostolica. Poi c'è la terza applicazione del termine Synergoi, che mi ha molto cara da quando negli anni di seminario l'ho scoperta, e che mi venne in mente in particolare quattro anni fa, nel momento in cui il mio vescovo, Lino Pizzi, eravamo a fine maggio 2015, ed era già stata pronunciata la sentenza di nomina, che mi avrebbe trasferito da Parroco Felice di Forlì, quindi senza rischi cardinalizi, a Modena, ma ancora non era pubblico. E lui mi chiamò, naturalmente, dicendo che dovevo accettare, facendomi leggere un lungo testo in latino di accettazione della nomina, e poi mi chiese all'improvviso, io non ci avevo pensato, quale motto hai scelto? Io lì, preso la sprovvista, dissi, chi fa da sé fa per tre, ma facciamo una risata assieme. Poi dopo mi è saltato, mi disse, non scherzare, dico, sì, è l'unica scappatoia. Comunque, mi venne in mente questo versetto di Seconda Corinti 1,24, siamo i collaboratori della vostra gioia, che in greco appunto ha il sinergoi. Il versetto intero è molto significativo per la teologia e la pastorale del ministero. Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già saldi. Noi non intendiamo fare da padroni, ma collaborare. Fare da padroni, il verbo contiene la parola curio, cioè signoreggiare. Noi non vogliamo signoreggiare su di voi, vogliamo collaborare, metterci quasi sotto. L'Apostolo non si sente la sorgente della fede della comunità, che anzi dice è già salda. Lui non si mette sopra, ma a fianco, come collaboratore. Questi sono i tre significati di collaboratore in Paolo. Collaboratori di Dio, collaboratori degli altri annunciatori, collaboratori della comunità. Prendo avvio di qui, perché questo mi mette molta pace. Mette molta pace, perché fa capire che noi non possiamo, come qualche volta si dice rapidamente, trasmettere la fede. La fede è dono, la accende lo spirito, incontrando la libera disponibilità delle persone. Noi possiamo, anzi dobbiamo, testimoniare la bellezza di credere. Se qualcosa trasmettiamo, sono alcune condizioni per poter credere. Cioè per dare agli altri la possibilità effettiva di fare spazio nel loro cuore e accogliere il dono della fede. È una prospettiva, dicevo, che mi mette pace. Ci rende anche molto umili, ma nello stesso tempo pieni di speranza. ci libera interiormente dall'ansia dei risultati, dalla quantificazione dei successi, seguita in genere dalla depressione per i fallimenti. Ci pone nell'atteggiamento di chi si mette a servizio semplicemente della parola e della grazia. È Dio che fa crescere. Fatta questa lunga premessa, che però mi pare essenziale per evitare l'affanno pastorale e la ricerca delle facili ricette, seguo un'altra immagine, questa volta non agricola come Paolo, ma gastronomica. Immagine della torta. Vorrei paragonare l'esperienza cristiana a una bella torta. Un'immagine pericolosa man mano che ci avviciniamo all'ora di pranzo, ma ci aiuta a capire che ci sono degli ingredienti fondamentali, che ci sono dei cuochi che la preparano e che ci sono anche degli strumenti, le stoviglie, per poterla cuocere. Cioè, c'è qualcuno che annuncia. Ci sono degli elementi fondamentali dell'annuncio e ci sono degli strumenti dell'annuncio. Chi annuncia? Chi sono i cuochi di questa torta e anche i camerieri? Noi da 50 anni ormai, primo documento base del settanta, postava la catechesi rinnovata dopo il concilio, diciamo e ripetiamo giustamente che il soggetto dell'annuncio della fede è l'intera comunità cristiana. Potrebbe sembrare astratto dire che è l'intera comunità educare alla fede, perché poi ci serviamo comunque di persone dedicate. E questo è il tempo in cui si riapre la caccia nelle parrocchie ai catechisti. Almeno io quando ero parroco in genere tra fine cominciavi a dadocchiare in agosto e poi cominciavi a martellare all'inizio di settembre. Ora dobbiamo tenere presente che le persone dedicate ci vogliono, ma è l'intera comunità che annuncia, che inizia la fede. In un certo senso dobbiamo eliminare il catechista, però intendetemi bene, non andate a casa a dire questo, eliminare il catechista come delegato unico, quasi che dovessimo addossare a una sola persona o a due, a seconda dei gruppi, tutta la responsabilità. Dobbiamo moltiplicarla, cioè diventare coscienti del fatto che lo si voglia o no, la persona che viene iniziata alla fede, soprattutto penso ai piccoli ma anche agli adulti, riceve la testimonianza da una pluralità di figure educatrici nella comunità, non solo i presbiteri, i diaconi, i ministri, ma anche i laici che sono impegnati nei vari ambiti che girano in parrocchia le persone consacrate, tutti educano alla fede, di fatto. secondo le proprie caratteristiche per esempio una cosa è l'animatore della liturgia, del coro, un'altra è il lettore, il ministro della comunione, ma tutti educano la fede, compreso il capo scout, l'educatore di azioni cattoliche, responsabili dell'oratorio e del doposcuola, l'allenatore che è sempre al top della considerazione dei ragazzi, gli operatori del caritas, ma anche per esempio le persone malate alle quali fare visita, i poveri, le persone fragili che non mancano mai nelle nostre parrocchie. Questo è il volto di una comunità che si presenta a chi si affaccia per essere iniziato e non possiamo pensare che il catechista abbia l'appalto del 100% dell'iniziazione perché il bambino, il ragazzo, l'adulto vedono tante altre figure e si fanno un'idea della Chiesa complessiva. L'esperienza cristiana per chi vi si affaccia ha il volto dell'intera comunità cristiana. È nel contatto vivo con la comunità cristiana che le persone iniziate alla fede possono ricevere una testimonianza, un impatto positivo o meno. Incontro diverse persone nelle parrocchie che mi dicono io non mi ricordo niente del... Mi ricordo però che c'era la sorella del parroco, qui io tremo, perché qualcuno dice che ci cacciava via, qualcuno dice se no ci apriva la porta e ci faceva giocare. La sorella del parroco non sapeva di essere iniziatrice alla fede ma lo è stata. Pensando alle nostre comunità credo che la domanda fondamentale che ci riguarda sia questa, che impatto ha l'intera comunità con tutti quelli che chiamiamo operatori pastorali, tutte le persone che partecipano, l'assemblea domenicale, su coloro che si affacciano, ha un impatto positivo o negativo, ha un impatto di grande attivismo, organizzazione, fredda, ha un impatto invece di accoglienza, ha un impatto di isteria, può succedere anche questo, ha un impatto di chiacchiericcio, delazione, critiche malevole, perché questa è catechesi o contro catechesi. prima Don Matteo leggeva il brano di San Francesco e tra i frati nominati c'è Frate Giovanni per la sua robustezza fisica e spirituale. Ora questo Frate Giovanni era a un certo punto nel convento di Firenze e se guardate le fonti francescane attorno al numero 769 se non ricordo male c'è questo episodio Francesco è una sezione dedicata alle critiche malevole al chiacchiericcio alle spalle e dice è la direi che è la vita seconda di Tommaso da Celano dice che nulla irritava padre Francesco come le critiche malevole dei frati frati loro alle spalle il chiacchiericcio lo riteneva come un veleno per la comunità e narra di questo episodio che un frate in Umbria cominciò a fare la linguaccia insomma a parlare male di tutti gli altri frati ingiustamente e Francesco stabilì questa cura lo fece portare al convento di Firenze da frate Giovanni che era soprannominato anche il pugile di Firenze il quale lo pestò ben bene poi fece un po' di convalescenza e ritornò a casa e il commento di Francesco e forse così capirà la gravità di quello che ha fatto quindi forse anche per questo ammirava la robustezza di frate Giovanni certo nelle nostre comunità non possiamo istituire questa pratica però però a volte verrebbe la voglia perché si perde tanto tempo nel parlarsi dietro nel criticarsi nel lamentarsi è vero c'è anche un diritto al lamento ma deve essere incorniciato nell'apprezzamento San Paolo dice gareggiate nel lamentarvi a vicenda no nello stimarvi a vicenda e insomma qui è un po' un punto che credo che le nostre comunità debbano essere consapevoli che questi climi vanno superati perché altrimenti vanifichiamo ogni proposta di iniziazione cristiana se inserite in un contesto malevolo di critica di lamento continuo non basta dunque avere bravi catechisti perché è di fatto la comunità intera a esercitare un impatto nel bene e nel male sulla vita di fede delle persone che la stanno scoprendo e non pensiamo che i bimbi non si rendano conto del clima di una comunità lo vedono benissimo lo respirano come respirano bene il clima della loro famiglia andiamo agli ingredienti fondamentali di questa torta che è la vita cristiana gli ingredienti sono tutti nel nuovo testamento nell'esperienza delle prime comunità cristiane considerando l'episodio dei discepoli di Emus che non commento una pagina troppo nota e sintetica ne individuerei sei sei ingredienti il cammino la parola l'accoglienza la preghiera lo spezzare il pane la missione li riprendo adesso uno a uno potremmo considerare molti altri testi come ad esempio i sommari degli atti per la comunità di Gerusalemme tanti passi delle lettere paoline ma mi sembra che Emmaus basti perché ci fa capire oltretutto l'intreccio con l'Eucarestia ci fa capire come tutto parta dall'Eucarestia e tutto vi ritorni Luca narra infatti l'incontro dei due discepoli una cinquantina di anni dopo l'evento e lo fa come fanno sempre gli evangelisti intrecciandovi l'esperienza delle comunità cristiane di quei decenni quell'incontro potremmo dire ispira la struttura della celebrazione eucaristica che mantiene proprio questi sei momenti a sua volta è riletto attraverso l'esperienza delle prime comunità di ormai mezzo secolo di celebrazione è quindi un racconto pasquale eucaristico un racconto pasquale che viene riletto alla luce della vita ecclesiale il primo ingrediente è il cammino quello dei due discepoli smarriti e sfiduciati che girano le spalle a Gerusalemme e tornano al loro villaggio originario ma anche il cammino di Gesù che li raggiunge e si mette al loro passo l'iniziazione cristiana è un percorso non una semplice lezione potremmo fare decine di esempi pensate solo il diacono Filippo che evangelizza camminando Paolo evangelizza viaggiando in lungo in largo ma è Gesù che ha avviato questo stile vieni e seguimi non dice vieni e siediti l'educatore come Gesù non aspetta a Gerusalemme e non ha paura di andare in direzione inversa alla città santa di inoltrarsi sul percorso della vita quotidiana spesso fatta di smarrimento sfiducia perdita dell'orientamento nostalgia del passato la delusione dei due discepoli dopo il primo annuncio della risurrezione perché l'avevano avuto il primo annuncio alcune donne ci hanno detto che è vivo ma sono passati tre giorni è la delusione di tanti che dopo aver sentito l'annuncio girano poi le spalle a Gerusalemme c'è bisogno di un secondo annuncio un'espressione ormai molto ripetuta di chi si metta proprio su quei passi incerti e mi colpisce che Gesù non forzi il loro passo ma dice Luca si avvicinò e camminava con loro non li invita a tornare indietro nemmeno accelera il ritmo del cammino senza unirsi alle loro lamentazioni vi si innesta e li accompagna Gesù non ha l'ansia di portare subito alla meta ma ha la cura di accompagnare il percorso uno stile di catechesi e di annuncio ambulante ci viene ormai chiesto oggi vieni e seguimi non vieni e siediti uno stile molto più difficile di quello cattedratico statico che chiede una preparazione culturale sufficiente ma non la fatica di mettersi in viaggio il secondo ingrediente è la parola Gesù non attacca il discorso con una risposta ma con una domanda è lui che parte che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino e poi li lascia parlare a lungo prima di rispondere e annunciare la Pasqua secondo le scritture Gesù non ha nemmeno l'ansia di dare subito la risposta alla cura di coltivare la domanda e di nuovo dobbiamo dire è molto più difficile per un educatore un catechista imparare ad ascoltare e innestare l'annuncio sul racconto dell'altro che non proporre subito la propria risposta a volte le nostre risposte non incidono perché non incontrano le domande le fatiche le attese il fatto che Gesù annunci la Pasqua vada al nocciolo della questione che è il Kerigma indica poi una gerarchia delle verità cristiane come scrive Papa Francesco in Evangelii Gaudium occorre riportare l'annuncio al suo nocciolo l'incontro con Gesù morto e risorto e di dedurre pian piano anche lì di lì gli altri contenuti della fede e le esigenze della vita morale Papa Bergoglio citta spesso questo passaggio della prima enciclica di Papa Ratzinger Deus Caritas Es numero 1 all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea bensì l'incontro con un avvenimento con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva il nucleo del cristianesimo già dalle origini non è una speculazione nuova su Dio e nemmeno il completamento di un catalogo di norme o di comandamenti queste sono le conseguenze il nucleo è un incontro con una persona vive è una relazione il cristianesimo nasce come piccola storia il kerigma originario è questo il crocifisso è risorto anzi Dio l'ha risuscitato proprio alle origini e alle origini non capivano neanche cosa voleva dire Gesù è vivo Dio l'ha risuscitato il crocifisso è di nuovo vivo poi pian piano come una valanga no? che inizia con una palla di neve pian piano questo kerigma si arricchisce i papi ci chiedono di recuperare il nucleo la presentazione completa delle verità cristiane e delle sue implicazioni etiche è necessaria ma deve essere graduale richiede pazienza va fatta curando sempre il legame con l'evento Gesù perché in una cultura così pluralista e frammentata l'insistenza sugli aspetti derivati rischia di apparire campata per aria di provocare rifiuto anziché interesse l'antropologia cristiana deve essere testimoniata e comunicata anche attraverso esperienze significative tutto ciò che riguarda la vita umana la famiglia l'educazione la pace la giustizia il rispetto per il creato cioè i capitoli fondamentali dell'antropologia cristiana tutto questo fa parte dell'annuncio cristiano ma potrà incidere davvero se risulterà innestato nel nucleo nel mistero pasquale di Gesù e derivante da esso un richiamo unilaterale alla legge naturale che pure esiste va portata avanti da solo non è più capace di fare breccia non c'è più questa base comune evidente su cui insistere pensate se Gesù avesse propinato ai due discepoli una predica sulle virtù le virtù cardinali dicendo ma perché tornate indietro ci vuole fortezza perché ci ripensate ci vuole temperanza non affrettatevi ci vuole prudenza è scritto nel vostro cuore è la legge naturale penso che lo avrebbero salutato vai per la tua strada e invece non lo salutano il terzo ingrediente lo pregano di restare con loro resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto l'ascolto di quest'uomo che ha detto parole vere e incisive suscita il desiderio di stare con lui si fa sera e non solo nel cielo ma anche nel cuore perché spesso dentro di noi si fa sera e nasce il timore della notte allora ci rivolgiamo all'unico che può dare senso anche al nostro buio la preghiera è un altro ingrediente dell'esperienza cristiana molto più diffuso di quanto possa sembrare incontrando tante persone nelle loro case specialmente in occasione delle benedizioni annuali o nella visita ai malati ho sperimentato come tutti voi tante volte che sono molte di più le persone che pregano di quelle che vengono a messa speriamo che anche quelle che vengono a messa preghino ma tanti pregano nelle case senza senza avere questa pratica di partecipazione ricordo molto bene anche la via il numero un anziano comunista si definiva addirittura trotskista che non so esattamente dove sono andato a vedere che aveva accostato l'immagine di Trotsky a quella di padre Pio e mi disse che alla sera diceva un pater ave gloria a tutte e due era il primo a spalare la neve davanti alla chiesa quando ma non metteva piedi in chiesa la preghiera fa parte dell'uomo esprime la sua creaturalità quel senso di limite e di dipendenza che soprattutto alla sera e alla sera della vita si risveglia purtroppo oggi come sappiamo difficilmente sono le famiglie a insegnare la preghiera ma una bella esperienza di preghiera nel percorso di iniziazione non troppo lunga e noiosa ma breve e gioiosa si imprime nell'animo dei bambini e dei ragazzi a volte la fa riscoprire anche agli adulti l'educazione al canto liturgico e religioso aiuta a ritrovare la profondità della preghiera come pure l'educazione a leggere le immagini sacre le opere d'arte cristiana di cui grazie a Dio le nostre chiese sono piene spesso pensate realizzate proprio nel contesto della liturgia e della preghiera non dimentichiamo non ornavano le chiese o i luoghi pubblici solamente per il desiderio di abbellirli ma per suscitare un sentimento di preghiera o anche l'educazione a vivere la preghiera nella forma del teatro e della danza tutto può essere utile nell'iniziazione cristiana per far riscoprire la preghiera ma chi era colui al quale i due avevano chiesto di restare con loro pregandolo non sapevano ancora che fosse Gesù l'unica definizione che avevano dato di lui fino a quel punto appena li aveva accostati era questa solo tu sei forestiero a Gerusalemme Luca usa qui il verbo paroicheo solo tu sei parroco a Gerusalemme ma ovviamente Cleopa non aveva scambiato Gesù per il parroco di Gerusalemme indica uno che vive da straniero che abita in un altro paese come forestiero potremmo dire quasi un disadattato solo tu sei così fuori dal clima di Gerusalemme non sai quello che è successo dunque invitano un forestiero uno straniero a rimanere con loro il quarto ingrediente dell'iniziazione cristiana è l'accoglienza i due discepoli aggiungono un posto a tavola non hanno paura di allargare lo spazio della loro casa non si barricano dietro alla loro porta chi sarà questo straniero hanno intuito sentendo parlare Gesù che quello straniero può solo arricchire la loro vita hanno capito senza forse averlo sentito da Gesù quello che aveva detto alla fine del Vangelo di Matteo ero straniero e mi avete accolto l'esperienza dell'essere accolti e dell'accogliere è uno degli elementi fondamentali un ingrediente importante dell'iniziazione è come la farina amalgama tutto molti di quegli adulti che si accostano o riaccostano alla fede oggi si parla molto dei ricomincianti lo fanno perché si sono sentiti accolti e non respinti accompagnati e non giudicati presi per mano e non segnati a dito se è possibile ottenere qualcosa da chi ci appare più lontano dall'esperienza cristiana non è certamente etichettandolo ma accompagnandolo penso a quante persone riscoprono una chiesa diversa nel percorso di preparazione al matrimonio i cosiddetti percorsi dei fidanzati però hanno già tre figli sono già nonni però è il percorso dei fidanzati ma non trovano nelle nostre chiese una cattedra che li giudica trovano una comunità che li accoglie che si innesta su quello che possono dare penso anche alle persone che vengono a chiedere un certificato che se trovano un sorriso del parroco o di chi quel momento è presente anziché una domanda fredda a cosa serve il certificato forse non dico che questi siano gesti che convertono però danno un'immagine di chiesa diversa e la stessa cosa vale per i piccoli la parrocchia dovrebbe essere la loro seconda casa sopportando anche qualche pianto a messa qualche urlo di troppo in canonica ma soprattutto vanno aiutati a scoprire nel cammino di iniziazioni il senso del servizio verso chi è svantaggiato lì possono imprimersi l'accoglienza nel cuore a me è rimasto impresso nella mia formazione catechistica infantile parlo di 50 anni fa da parte di un parroco che non era certo al passo coi tempi la cura di farci vivere esperienze di servizio verso le persone meno fortunate più povere più marginali ad esempio ci portava la domenica pomeriggio prima ci proponeva il film western in genere poi c'era il rosario e le litanie la benedizione tutto in latino e poi se eravamo stati bravi il gelato e poi spesso ci portava nelle case dei malati concordando con loro oppure da fuori il tragitto era facile Santa Teresa di Ravenna l'istituto ci faceva visitare un reparto incontrare le suore oppure ci portava a incontrare qualche persona ci fece incontrare Anna Lena Tonelli per esempio la mamma di Benedetta Bianchi Porra approfittando delle situazioni che si creavano il parroco che andava sempre in veste si sentiva una parolaccia spelleva dal gruppo chiedeva la preghiera in latino però aveva questa attenzione io credo che esperienze di servizio e di carità proporzionate all'età dei bambini parlo proprio dei bambini non parlo dei giovani già da bambini sulle quali poi riflettere assieme siano iniziazione cristiana allo stato puro terminato finalmente quel cammino di undici chilometri a tavola prese il pane recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero si fa riconoscere nello spezzare il pane nel rito eucaristico e questo è il focus dell'episodio è il momento di svolta il perno che rovescia tutta la scena e la rende nuovamente dinamica rimettendo in moto i due discepoli strano che fino ad allora non l'avessero riconosciuto ma evidentemente Gesù si fa conoscere pienamente solo quando si spezza quando si presenta nella forma del dono quando si fa pane quando si sbriciola per noi l'esito del cammino di Gesù è il suo offrirsi questa è la meta infatti sparisce non aspetta nemmeno che loro credano che professino alla fede ha terminato il suo annuncio questo annuncio è diventato pane spezzato e sparisce il traguardo dell'educatore cristiano è che la parola diventi pane che i discorsi lasciano spazio alla vita che il dialogo diventi testimonianza quando parla la sua vita l'educatore ha davvero dato tutto si vede bene che il catechisto o la catechista non è una figura solitaria ma è una pluralità di persone chi può offrire da solo una testimonianza integrale fa parte dell'iniziazione cristiana all'incontro con tante testimonianze le testimonianze dei santi degli amici di Dio le testimonianze dirette di persone viventi che abbiamo in tutte le nostre comunità che nel loro quotidiano senza eroismi o miracolismi cercano di vivere la fede in famiglia al lavoro in ospedale le testimonianze di luoghi e fatti che parlano di Vangelo e ogni diocesi ha tanti luoghi che parlano di Vangelo ciascuna parrocchia e ciascuna diocesi può fare incontrare persone luoghi ed esperienze di fede ai piccoli e ai grandi cioè tradurre la parola in vita incarnata in qualche esperienza l'ultimo ingrediente è la missione non l'ultimo per importanza anzi è l'anima dell'intero racconto di Emmaus composto potremmo dire da due viaggi missionari di undici chilometri ciascuno il primo è il viaggio di andata da Gerusalemme a Emmaus segnato dall'amarezza dei discepoli e dall'accompagnamento di Gesù il secondo è quello inverso segnato dalla scomparsa di Gesù e dalla gioia dell'annuncio il primo è la missione di Gesù il secondo è la missione della chiesa perché Gesù sparisce subito quando ha spezzato il pane perché non si sottopone a qualche domanda ne avranno avute tante i due o non dà una parola un mandato un conforto credo perché vuol far capire che la chiesa non deve fare cerchio attorno a lui come sarebbe inevitabilmente avvenuto se fosse rimasto lì ma deve uscire annunciare la bellezza che ha sperimentato la chiesa esiste per evangelizzare diceva già Paolo VI nell'Evangelio annunziante esiste per l'annuncio la ripresa del cammino in piena notte cosa strana soprattutto per degli ebrei magari anche stanchi dal viaggio di andata fa capire che non c'è un tempo ideale per la missione anche la notte è tempo di missione e l'incontro con esperienze missionarie e la pratica di piccole missioni sul territorio fa parte dell'iniziazione cristiana educare all'incontro con gli altri non è sinonimo di relativismo ma di missione perché la missione cristiana come ripeteva Papa Giovanni Paolo II è fatta insieme di dialogo e annuncio ho quasi completato la torta devo solo ricordare che tutti e sei gli ingredienti si collocano dentro la celebrazione eucaristica che è fonte e culmine ed è culmine e fonte in tutte e due le direzioni dell'intera vita cristiana l'esperienza vissuta delle nostre comunità altro non è se non la dilatazione dell'eucaristia domenicale e la preparazione dell'eucaristia successiva ogni messa è una piccola Emmaus l'incontro con la Pasqua di Gesù la pastorale è tutta concentrata potenzialmente nella celebrazione eucaristica la celebrazione eucaristica ci fa rivivere in un'ora gli ingredienti fondamentali della nostra vita di credenti come primo gesto infatti chiediamo perdono riconoscendo di girare spesso le spalle a Gerusalemme e abbandonare il Signore sfiduciati poi veniamo avvicinati da Lui che si mette al nostro passo e nella liturgia della parola ci fa capire quanto ami ciascuno come la vita sia sempre accompagnata da Lui nella preghiera dei fedeli gli ripetiamo che resti con noi perché si fa sera e il tramonto del dubbio e del dolore stende la sua ombra su di noi nell'offertorio rinnoviamo la disponibilità ad accogliere lo straniero Gesù e in Lui ogni persona svantaggiata e lasciata ai margini nello spezzare il pane della consacrazione della comunione i nostri occhi si aprono perché riceviamo il sacramento dell'amore che dona uno sguardo profondo sugli altri ci abitua a vederli non come concorrenti ma come amici e alla fine della messa siamo spinti a riprendere il cammino per annunciare anche agli altri la bellezza di credere in Dio nella messa dunque viviamo concentrate tutte le dimensioni più importanti della nostra fede l'iniziazione cristiana non è perciò primariamente la spiegazione della messa ma l'esperienza della messa che va spiegata un po' alla volta è importante la pedagogia verso i sacramenti ma il Papa ci richiama gli ultimi Papi ci richiamano sempre anche la mistagogia a partire dai sacramenti non è necessario capire tutto prima del resto questa è la grande tradizione delle origini è necessario prima sperimentare questo è anche molto moderno perché le attuali teorie della conoscenza agganciate alla pedagogia hanno messo sempre meglio in luce che non si impara partendo dal concetto applicato poi alla realtà ma si impara partendo dall'esperienza ricavando il simbolo e deducendo poi il concetto e facendo ripartire una nuova esperienza la realtà è più importante dell'idea dice Papa Francesco non nel senso che non ci vogliono le idee ma che quelle che incidono davvero nell'animo delle persone sono dentro la realtà ma questo noi è una cosa che sappiamo da sempre nella liturgia i grandi padri che praticavano la mistagogia dicevano adesso ti spiego quello che hai vissuto non dicevano adesso prima ti spiego poi se hai capito vai siamo noi in occidente noi siamo molto platonici abbiamo l'idea che prima bisogna confezionare tutti bene i concetti in cielo e poi devono essere tradotti in terra adesso impegnati a tradurlo noi siamo un impasto di concetti e di esperienza è necessario che si imprima nella mente dei piccoli la memoria liturgica domenicale pensiamo solo certo noi sappiamo tutti la fatica che si fa a spiegare ai bambini ma perché gli adulti capiscono tutta la messa non so sappiamo anche la fatica che si fa a tenere però il messale anche quello nuovo ci permette una certa partecipazione anche dei bambini dicevo pazienza qualche pianto ma soprattutto pensiamo all'impatto che ha nei piccoli il vedere dei giovani degli adulti che pregano insieme a loro che celebrano che fanno delle cose che loro non capiscono però le fanno i grandi dobbiamo anche nella liturgia essere creativi dentro quello che ci chiede la chiesa perché se uno applicasse bene il messale non avrebbe bisogno di canovacci teatrali lì c'è tutto per essere i collaboratori della gioia e non della noia qualche volta non so credo che tutti i vostri parrocchiani uscendo da messa dicano non ci ardeva forse il cuore mentre ci spiegava le scritture però a Modena non è sempre così no? ultimo una parola veramente una parola finale sono già le 11 non so 5-4 minuti su quelli che normalmente vengono chiamati aspetti pratici che però credo siano più da vedere come strumenti perché la vera pratica è quello che ci dice il Vangelo però non dobbiamo evitare il discorso sugli strumenti e credo non esiste sappiamo che non esiste un metodo perfetto e infallibile se noi guardiamo il panorama italiano attualmente abbiamo tre grandi impostazioni dell'iniziazione cristiana la prima è quella definita classica diciamo il catechismo settimanale in preparazione ai sacramenti che sfocia nella cresima e nella proposta del post-cresima questa è la più diffusa da una bella storia e poi se vissuta in senso esperienziale è efficace la seconda è chiamata catecumenale prevede dei percorsi di preparazione alla cresima e all'eucarestia ricevuti contemporaneamente o quasi prima di solito la cresima e poi l'eucarestia seguiti da un successivo tempo di mistagogia in alcune diocesi specialmente Lombardia e Veneto hanno sperimentato questa forma la terza è il metodo dei quattro tempi diffuso soprattutto in Veneto e in Emilia Romagna che coinvolge cerca di coinvolgere in modo particolare le famiglie affidando una settimana il catechismo alle famiglie la settimana dopo si fa ai genitori quella dopo ai bambini credo che ogni metodo ne esistono tanti altri derivanti dall'intreccio di questi abbia i suoi pregi e i suoi limiti e che aspetti prima di tutto alle chiese locali dare degli orientamenti e poi alle singole comunità coniugarli secondo la situazione del luogo sarà importante probabilmente almeno questo siccome anche noi a Modena facciamo lo stesso percorso sull'iniziazione ho visto che è importante accordarsi su alcune tappe anche sulla famosa età della cresima noi abbiamo situazioni dove in una parrocchia si fa in quinta elementare in quella vicina in prima superiore e allora si verifica il fenomeno delle migrazioni catechistiche stranamente tutti i ragazzi della seconda parrocchia hanno degli amici più cari nella prima e quindi non possono non fare la cresima in quinta elementare se non altro per questo perché si crea un po' di confusione allora forse un po' di accordo su questo viste le prospettive che stanno maturando nella chiesa italiana spero comunque che gradualmente si possa decongestionare la questione cresima e post cresima fino addirittura a eliminare l'espressione post cresima perché tutto quello che è post il post moderno il post giovane sa un po' di decadente il problema ovviamente non è il linguaggio ma è il capire che ci sono delle tappe e che la parrocchia le propone in continuità l'una con l'altra e che non impegna il 99% delle energie sul prima e poi finalmente siamo liberi e chi vuole continua ma c'è un percorso senza soluzione di continuità è importante ragionare intanto non solo su quanti rimangono in parrocchia dopo la cresima più o meno la percentuale è quella apostolica Gesù parte con 12 ne rimane uno sotto la croce più o meno ma anche e soprattutto su come escono come escono dall'esperienza della cresima che ricevono io ho visto un ragazzo in una parrocchia di Modena che pensava che non l'avesse visto perché era già uscito dopo la cresima della chiesa lì è la cresima in terza media si vede che già sono un po' che si toglieva la camicia sotto aveva una maglietta che ha scritto bye bye parrocchia è abbastanza significativo no? gli ingredienti proposti comunque ce li abbiamo già non c'è bisogno di andare su Amazon e ordinarli molte parrocchie hanno già integrato quello che impropriamente veniva chiamato modello scolastico che impropriamente perché oggi la scuola stessa integra tante esperienze non è più solo libresca molte parrocchie lo hanno integrato con una pluralità di esperienze la dottrina quando andiamo alla dottrina è stata già da tempo inserita in molti luoghi nel più ampio contesto della catechesi che ora a sua volta è collocato dentro il contesto ancora più ampio dell'iniziazione cristiana in altre parole se un tempo la sostanziale omogeneità di valori che il bambino respirava negli ambienti educativi famiglia scuola e parrocchia e anche sport poteva giustificare la concentrazione dell'iniziazione cristiana nella dottrina perché il resto lo respirava anche altrove oggi la rottura dell'alleanza tra famiglia scuola e parrocchia e l'ingresso di ben altri fattori in gioco come quelli offerti dal web rendono ancora più necessario integrare la sola lezione dottrinale dentro una pluralità di ingredienti tenendo presente come dicevo che la teoria è più efficace e incisiva quando viene dedotta dalla pratica un'idea entra più a fondo nell'animo del ragazzo se prima viene vissuta esperienzialmente poi spiegata criticamente e confrontata con il Vangelo da questo punto di vista mi sembra utile ricordare che l'azione cattolica già dalla fine degli anni sessanta nel settore ACR e la Gesci da metà degli anni settanta hanno messo a punto delle metodologie educative importanti la C con la catechesi esperienziale la Gesci con la catechesi occasionale oggi la chiamano occasionata e che la CEI indicò in queste due esperienze dei cammini possibili anche per l'iniziazione cristiana lo dico per dire che esistono già anche delle tracce molto approfondite da ultimissimo una parola sui catechismi in Italia è stato messo in atto un grande sforzo per scrivere i catechismi dall'inizio degli anni settanta attualmente dopo alcuni decenni di sperimentazione si è dimostrato che hanno una certa tenuta i catechismi per i fanciulli con i relativi sussidi mentre quelli degli adolescenti dei giovani e degli adulti sono quasi completamente disattesi per qualche parte ci si chiede ed è stata fatta la domanda alla commissione episcopale se riscrivere i catechismi per ora l'orientamento nazionale non è di riscrivere i catechismi è un orientamento diciamo così digitale si sta ragionando in direzione di una piattaforma informatica nazionale che possa tracciare dei percorsi bene impostati anche per evitare le tendenze autodidatte o le necessità dei catechisti che vanno su Maranata su per carità Kumran 2 eccetera sono importantissimi però lasciamo tutto il peso di nuovo ad alcuni mentre se si propongono dei percorsi sussidiati forse gli si aiuta dei percorsi adattabili da parte delle diocesi perché ogni chiesa locale può integrare con sussidi digitali e cartacei cioè ciascuno di noi ha una propria storia proprie figure di santità propri luoghi che parlano testimonianze da proporre documentari arte e questa piattaforma nazionale dovrebbe si sta cominciando a studiare dovrebbe estendersi non solo all'età dei fanciulli e dei ragazzi ma cominciare dagli 06 e andare anche successivamente nella pastorale giovanile tenendo conto del documento Christus Vivit di Papa Francesco e interessare un po' anche i cosiddetti ricomincianti e invece di ricominciare ho finito grazie